Siamo un'azienda familiare, tessitura Marco Pastorelli SPA, siamo operativi dal 1961, produciamo fodere, accessori per l'abbigliamento interno, sia fibre artificiali piuttosto che il sottore non è proprio dei più rosei, comunque mai mollare, teniamo duro, ci inventiamo l'impossibile, è difficile, in Europa ci difendiamo bene, in America cerchiamo di dare il nostro meglio, mentre per quanto riguarda il Far East siamo un pochettino meno presenti, anche perché è un mercato in cui i clienti sono decisamente più difficili rispetto alle nostre proposte e guardano più anche al prezzo, non solo alla qualità.